C'è colore, bellissima! Midonia, mi piace questa notte bianca? Ehi, fatemi sentire, perché adesso l'atmosfera diventa caliente! Adesso succede qualcosa che voi potete andare a vedere poi da un'altra parte. Noi facciamo una piccola pillola qua, vi facciamo vedere cosa succede dalle altre parti. Nel palco discoteca, adesso quasi sarà... Nel palco discoteca avviene qualcosa e questo è soltanto un assaggio, appunto, di quello che... È un assaggio perché è in un momento caliente, arriverà qua sul palco la rapida animazione. Ossia, quello che succederà sul palco discoteca... Io l'ho visti dietro! ...con DJ Federico Brascio, facciamo l'applauso intanto a Federico Brascio, DJ! Io l'ho visti dietro, eh! E vocalist Giulio Anzerni, quindi... Ci saranno quindi, per chi vuole ballare, vuole scatenarsi, c'è il palco discoteca... Aspetta, aspetta che finiscono! Sul palco discoteca, arriveranno queste belle ragazze! Come sono, Cristian? Beh, insomma, ha un po' tagliata lei! No, che ti... No, belle ragazze, belle ragazze! Quindi sul palco, diciamo, sul palco... Sul palco discoteca, però... Potrete trovare la rapid animazione! Siete pronti per i quali... Eccoli qua, a pori! Applauso, rapid animazione! Di più vai, con questi applausi! Siete pronti per i quali... Siete pronti per i quali... Ehi!